Ciao a tutti! Durante un progetto sull'insorso umane ho avuto l'occasione di raccontare le sette linee guida di Daniele Lamar, che è il SEO di Circus Soleil. 1. Stai sempre allerta. 2. Costruisci un ambiente creativo e stimolante. 3. Assumi persone che pensano fuori dagli schemi. 4. Investi in ricerca e sviluppo. 5. Sfida i tuoi dipendenti a sviluppare nuove idee. 6. Sii chiaro su cosa significa creatività nel tuo settore. 7. Circondati di persone che siano stimolanti e fonte di ispirazione. Fatemi sapere voi cosa ne pensate così ne discutiamo. Concentrazione, concentrati in azione.